... a Pukheta l'italiano è venuta... a Pukheta i nostri stanno arrivando... tutto questo team è in volo... i voli verso le Maldive, verso il Silanca e verso Pukheta che... Iебrono non lo devo dire che sia il ultimo perché Figuro si aumenta nel minuto e sono molto freddo che ci saranno solo più di 100.000 vittime perché l'area è molto grande e tutti i diversi paesi del bengala sono molto affettati. Si tratta di 11 probabilmente connazionali di cui è stato constatato il decesso la identità è stata accertata soltanto per tre di loro in quanto com'è facile immaginare si tratta di turisti che sono stati travolti dalla onda in spiaggia e quindi sono privi di qualsiasi documento di identità. questa cifra dei 100 italiani di spiaggia c'è una operazione humanitaria con il doctor e il hospital per la prima volta. e per la seconda volta abbiamo 10 lavoratori di first aid per lavorare quando si è colapsato nel bambino. Grazie a tutti.